Grazie e buongiorno a tutti. Dopo la visita del 2008 per presentare Yel System 2, sono arrivati i giusti input per progettare e sviluppare Yel System 2. Lasciatemi solo qualche secondo per presentare Fidia Farmaceutici. Noi siamo in Italia, siamo nel nord-est dell'Italia, siamo a circa 30 km dal canale grande di Venezia. 100 km dal Dolomiti, le famose montagne rosa. 80 km dal balcone di Giulietta di Verona. E siamo a Padova, vicinissimo Padova che è famosa per la seconda piazza più grande d'Europa dopo la piazza rossa. Questa che vedete in sotto è tutta Fidia Farmaceutici. È circondata dai colli. E tutta la parte industriale e di ricerca è situata nello stesso impianto. è una azienda che è privata. È stata fondata nel 1947. Attualmente occupa circa 550 persone con un fatturato di poco meno di 140 milioni di euro nel 2010. Il nostro valore più importante è proprio l'acido euronico. Oggi tutta la nostra ricerca, la produzione, il marketing è indirizzato, è focalizzato verso l'acido euronico. Dalla nostra ricerca oggi sono state sviluppate ben quattro diverse tecnologie o piattaforme che si basano sull'acido euronico. E questo ha portato a più di 950 brevetti e patenti in tutto il mondo. Questo ha potuto in qualche modo far crescere una serie di business in diverse aree medicali. La compaglia è lavorata in diversi medici. Dal joint healthcare all'advanzo di medici, di l'accusa, di l'accusa, di l'accusa, di l'accusa, di l'accusa, di la medicina estetica. e, in particolare, in estetica medicina. Due sono i prodotti che conosciamo bene. Due препarato che voi già conosciamo bene. Yel System, Yel System, Yel System ACP. E oggi parliamo di Yel System Duo. E oggi parliamo di Yel System Duo. Yel System Duo è, quindi, un nuovo prodotto, chiaramente sterile. Yel System Duo è un nuovo prodotto, sterile gel. È un gel monofasico. Одnofasico. Ed è basato su una nuova tecnologia. E basiare su una nuova tecnologia. Che noi abbiamo chiamato MATCH. Che vuol dire multi-crosslinker. Che prezenta delle forti caratteristiche di tipo, cioè viscoelastico. E una resistenza alla degradazione. E una resistenza alla degradazione. Il prodotto è approvato in Europa. Allora, parliamo della tecnologia MATCH. L'idea non è quella semplicemente di associare due crosslinkati. Ma in qualche modo di inglobare fisicamente. Ma in qualche modo di inglobare fisicamente. Un crosslinkato che noi conosciamo molto bene. Che si chiama autocrosslink polimer. Autopolimera autocrosslinkeravane. T'è ipergialuronovai kislate. Che si chiama ACP. Quello che voi già molto conoscevete. È ACP. Su un altro crosslinkato. Sovmestito con un altro crosslinkeravane. Che è ottenuto attraverso una reazione con BDD. Con l'obiettivo quindi di avere un prodotto biostimolante. Dovuto al rilascio di aceto di nevronico. Dovuto all'idrolisi dell'ACP. E un effetto di natura volume long lasting. Dovuto all'idrolisi dell'aceto di nevronico. Dovuto al crosslinkato con la BDD. Che noi chiameremo qui HBC. Solo per una sigla. Questo che rappresenta è una semplificazione dello schema di processo. Come la tecnologia si è stata già sviluppata. Noi partiamo dall'acido di nevronico non modificato. Abbiamo un peso molecolare di circa 750.000. Lavorando in particolari condizioni di concentrazione. E di temperatura. Questo permette di ottenere un crosslinking con la BDD. Con un grado di crosslinking del 10%. Eliminando però e usando la minor quantità di BDD possibile. Il processus di crosslinking è disponibile in minimale la qualità di BDD. Scusa, spieghiamo un attimo questo discorso. Nel senso che ci sono anche quelli che non partecipano perché se no non si capiscono magari del BDD. Allora, la reazione è importante. Sì, certamente. Noi abbiamo cercato di sviluppare una metodica che mi permetta di far reagire e che ci permette di reagire tutte le BDD che io aggiungo. 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 Perché quando nel processo di crosslinking di modificazione di gianluorone e di cilato ci attrazione molto BDD e proprio solo una piccola parte attrazione di sviluppare. Tutte le resta resta libera. E poi, dopo, ci sono stati liberati. Ma attenzione, perché la BDD reagisce da una parte ma reagisce anche dall'altra parte perché sapete che forma un ponte tra le catene di acido di gianluorone. E noi dovevamo e volevamo essere sicuri che che entrambi i terminali della BDD che entrambi i terminali della BDD in tal modo noi abbiamo due effetti importanti. Il primo. Abbiamo che la BDD non ci sono residui di BDD che reagiscono solo da una parte. quindi... E il residuo di BDD non reagito è molto basso. e che non avevamo resti e che non avevamo resti che non hanno presi in attività di moleculi. Poi dovevamo trovare un sistema tecnologico per mettere, associare l'ACP che permette l'ACP dentro il gel di BDD e formando però un gel monofasico e omogeneo naturalmente. perchè se io prendessi i due gel e li mettessi insieme attraverso una siringa e li mettessi insieme attraverso una siringa otterrei un gel con due fasi visibili da un punto di vista fisico molto ben visibili che sarebbero visti che varibli a fisico quindi erano due fasi allora ci siamo inventati un sistema che abbiamo presentato che abbiamo chiamato e l'abbiamo chiamato CUT AND SELL Quello che vi chiamavamo CUT AND SELL cioè RASREZATE E NAPOLNIT noi quindi prendiamo il gel ottenuto dal cross linking con la BDD lo tagliamo e contemporaneamente lo suelliamo e ripetiamo questo ciclo più volte ad un certo punto aggiungiamo il gel di ACP miscelando tutto insieme a bassa temperatura e quindi abbiamo ottenuto un gel omogeneo e monofasico e quindi una fase di correzione del pH e di filtrazione che ha due obiettivi il primo attraverso la correzione del pH riusciamo a eliminare completamente il residuo di BDD quel poco che c'era rimasto che si trasforma in glicole quindi assolutamente non tossico perché è usato nell'industria farmaceutica come eccipiente BDD che si trasforma in glicole e la filtrazione permette di allineare le catene di acido di neurone infine si passa al filling nelle siringhe e la sterilizzazione termica facciamo un passo indietro per ricordare l'ACP lo conoscete bene però qualche concetto forse è meglio ripeterlo l'ACP è l'unico cross-linking senza la formazione di ponti molecolari tra le catene di acido neurone che non ci sono catene tra le catene di acido neurone perché non ci sono dei ponti estranei tipo BDD senza использuare chimiche вещества при sshibках между molecolami cioè non посторонних вещества che участвavano in sshibках infatti la reazione coinvolge solo gruppi carboxyl idrosilici appartenenti solo all'acido neurone si forma un estere quindi voi sapete è un legame molto facile da idrolizzare da rompere quindi in condizioni fisiologiche quindi in condizioni fisiologiche come il pH la temperatura la presenza di enzimi il legame estereo tra le molecole di acido neuronico si rompe liberando su acido neuronico puro e quindi noi abbiamo la grande possibilità di poter ottenere alla fine e quindi inoltre получается solo e unicamente acido neuronico il ruolo dell'ACP all'interno del DUO ha tre ha tre importanti caratteristiche la prima è legata all'acido neuronico ed è un ruolo di tipo di struttura e fisico hidratante soprattutto il secondo è più di natura biologica il dottor Alessandrini prima vi ha spiegato le interazioni abbiamo parlato prima di caratteristiche biologiche la più una delle più importanti è che l'acido neuronico interagisce in modo specifico con un recettore che è chiamato CD44 il quale è un recettore talmente importante perché riesce a guidare i processi di proliferazione adesione e differenziazione ben conosciuti nei fibroblasti ma recentemente studiati nelle cellule mesenchymali staminali che sono contenute all'interno del tessuto adiposo quindi nella parte ipodermica l'idrolisi dell'ACP poi sappiamo che attrae i macrofagi e rilascia i fattori che in qualche modo promuovono promuovono la crescita di nuovi fibroblasti e di nuova matrice che servono nel sviluppo e roste infine ed è una cosa molto importante è studiata molto recentemente interlucina 1 interlucina 1 il quale induce in qualche modo sappiamo alcune metalloproteasi altamente infiammatorie metalloproteasi 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 che in qualche modo è è un input del processo di infiammazione quindi un importante ruolo biologico ma non è finita perché parliamo anche di una funzione meccanica perché l'ACP all'interno del duo in qualche modo questo a sinistra è il crosslinkato solo BDD questo è l'ACP e il system duo rosso totale 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 quindi con all'interno l'ACP aumenta l'elasticità aumenta l'elasticità del 53% quindi quindi questo significa una maggiore capacità plastica del prodotto il crosslinkato il crosslinkato a base di BDD ha una funzione di volume ha una funzione di volume però ha anche la funzione di inglobare in modo fisico l'ACP questo pensate a una casa alla struttura della casa pensate all'impalcatura fuori cioè di una casa e questo rappresenta colonna il gel HBC quindi il gel BDD è la struttura ora pensate c'è dentro questa struttura vuota ma solida di riempirla con gli appartamenti i mobili e i mobili questi sono l'ACP sono la cosa più bella poi alla fine questo perché perché il volume idrodinamico è il volume della molecola dell'HBC è molto più grande quattro volte del volume dell'ACP quindi l'ACP può entrare dentro questo scaffold quindi l'ACP è l'ACP inoltre ovviamente il grado di crosslinking del gel di BDD mi permette di avere un effetto volume stabile nel tempo per almeno 5-6 mesi questo abbiamo cercato l'effetto di protezione dovuto al gel di BDD l'abbiamo cercato di dimostrare questo che grafico allora questo è un grafico di idrolisi allora lo spiego allora voi vedete qui la curva verde dove abbiamo messo il 25% di ACP all'interno di una soluzione di acido neuronico non modificato in vitro abbiamo aggiunto un esterasi aspetta scusami non modificato non modificato ok v vitro mi dobbiamo esterasi che rompe il legame estereo quindi il crosslinking dell'ACP dopo tre ore quasi tutto l'ACP è totalmente acido neuronico questo invece è quello che avviene nel duo dopo tre ore circa il 60% solo il 60% in queste condizioni è idrolizzato quindi dimostriamo che nel duo il gel a base di BDD protegge l'ACP protegge l'ACP questo è il prodotto che vedrete è da preparare le caratteristiche è con acido neuronico c'è crosslinkato alla concentrazione di 25mg è in una soluzione di sodio cloruro e rastor sodio clorido e attualmente la stabilità è di 36 mesi tra 2 e 8 gradi certi gradi queste sono le indicazioni ma ne ha parlato Andrea quindi Andrea ha parlato in qualche caso l'utilizzo e parliamo un po' di caratterizzazione chimica perché per noi era molto importante dimostrare attraverso studi che sono stati anche recentemente pubblicati che attraverso studi di risonanza magnetico nucleare abbiamo dimostrato la presenza del crosslinking crosslinking con un grado del 10% in moli vuol dire che su 10 su 100 unità di acido gironico 10 sono coinvolte dal legame anche per l'ACP abbiamo dovuto ed è stato un lavoro molto più difficile perché siamo andati a lavorare su segnali molto piccoli siamo andati a dimostrare la presenza dell'estere interno in questo caso quindi abbiamo dimostrato di avere i due componenti che sono esattamente quelle che noi volevamo erano 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 che dimostrano in modo inequivocabile in modo preciso che c'è stata una modifica chimica specifica che era che esattamente modificazione questo tipo e quale queste sono le specifiche del prodotto sono le specifiche standard specifiche preparata questi sono il comportamento elastico del prodotto rispetto a un prodotto cioè della concorrenza che in questo caso era il belotero si può anche dire l'elasticità del prodotto nel duo è 75% contro il 60% quindi un aumento delle caratteristiche elastiche presentano una migliore capacità di riempire spazi tridimensionali che ha l'aviscusità che ha l'aviscusità la viescità volutamente tenere più bassa per rendere il prodotto più facilmente somministrabile perché a noi interessa l'elasticità ed è questo il nostro concetto sia per il bioexpander e per il duo di non parlare più di viscosità ma parlare di elasticità perché è quella che ha un effetto sui tessuti i test di estrudibilità quindi la capacità di estrudere il prodotto attraverso un ago di 23 gauge ci portano a valori di estruzione di forza intorno ai 12-13 N quindi in linea con questa tipologia di prodotti ma oltre alla parte di natura chimica siamo andati anche a vedere gli aspetti biologici siamo andati a vedere il tempo di residenza in un modello animale c'è di coniglio e sapete bene che nel coniglio i tempi di degradazione sono molto più brevi rispetto all'uomo quindi rispetto a un reference che è sempre il Bellotero il tempo di residenza di YAL System Duo è molto più lungo potendolo stimare in circa 6-7 mesi adesso stiamo aspettando la conferma dagli studi clinici che sono in corso importante era determinare anche se il prodotto risultava safe e la tollerabilità l'abbiamo inizialmente dimostrata attraverso un'analisi istologica prelevando tessuti dopo 4 settimane e dopo 11 settimane il risultato è che il risultato è che infiammazione nessuna eritema nessun nodulo o decolorazione della pelle è stata osservata ma siamo andati anche un po' oltre cercando di capire se e nei tempi successivi all'iniezione quindi nel breve periodo c'erano effetti di natura infiammatoria l'analisi istologica a un giorno e a tre giorni ha dimostrato l'assenza di infiammazione e la dilattazione e la dilattazione degli spazi interfebrilari anche a 7 e a 15 giorni si dimostra si è stato dimostrato che non c'è effetto o richiamo di cellule infiammatorie e questi risultati ottenuti sull'animale sembrano anche essere dimostrati nell'esperienza clinica quindi possiamo dire che sulla tollerabilità del prodotto siamo assolutamente sicuri per registrare il prodotto come sapete abbiamo condotto gli studi che sono richiesti dalla linea guida 10993 per registrare il prodotto test di ipersensibilizzazione, ipersensibilizzazione, tossicità accuta e tossicità cronica e test di mutagenesi che si sono rivelati tutti negativi, cioè negativi, tutti senza effetto. Tutti i risultati testi sono rivelati, quindi non c'erano effetti. Attualmente in fase di completamento uno studio clinico che il dottor Alessandrini e la dottoressa Cesparabinia stanno conducendo separatamente sull'università 2. Vedono due cliniche cliniche che hanno fatto il dottor Andrea Alessandrini e il dottor Cesparabinia. e i risultati saranno presto, cioè disponibili. E quindi lasciatemi concludere cercando di riassumere quello che oggi abbiamo detto. Il System Duo quindi è un gel di natura monofasico, trasparente, trasparente ed è ottenuto attraverso una tecnologia brevettata chiamata Match. riesce ad assicurare un effetto biostimolante dell'ACP dovuto all'ACP e un effetto volume e un abbia un effetto che circa tra sei e otto mesi che e un effetto è molto elastico aumenta la capacità di riempire spazio e eclusivamente elastica e eclusivamente elastica è facile da somministrare e totalmente biostimolante non ci sono rivelati effetti non nel breve e ne meno nel lungo periodo e gli studi clinici sono ongoing ma e con questo io vi ringrazio molto